Il messaggio da capitano di Riccardo Brosco in vista dei play-off? Sicuramente ragionando partita dopo partita perché essendo partite secche può succedere di tutto bisogna ragionare sulla prima e ormai conosciamo i nostri pregi, i nostri difetti e quindi sappiamo che possiamo entrare in campo e dare fastidio a tutti. Che partita ti aspetti contro un Ponte d'Era che avete già battuto due volte su due? Sì, però le partite di play-off saranno diverse, magari squadre che prima affrontavi in un modo magari i play-off li affronti in un altro, sia loro che noi insomma. Quindi bisogna essere pronti a tutto, entrare in campo cattivi e cercare di dare il massimo. Riccardo, se ti dovessi dire cosa cambia in una partita play-off, al di là della frase fatta è dentro fuori, cambia tutto rispetto al campionato, tu da capitano e per averne giocate tante di queste partite qual è l'aspetto diverso? Sicuramente l'adrenalina, io spero che ci sarà in casa una boggia, che entreremo in campo avvelenati su ogni contrasto, bisogna dare il massimo perché soltanto così si vincono le partite difficili. Può arrivare fino in fondo secondo te o al momento è presto per parlare? No, i play-off sono talmente imprevedibili che può succedere di tutto, ovviamente mi auguro di arrivare il più in alto possibile, però io ragionerei più step by step e bisogna pensare una partita alla volta.